Al Focus Tour Tappa di Bari siamo con Roberta Lalla, dirigente ufficio prevenzione e sicurezza tecnica della direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia. Quali i messaggi più importanti che i progettisti di sicurezza antincendio dovrebbero carpire anche da questi appuntamenti secondo lei e fare propri? Sicuramente negli ultimi anni, dal 2015 in poi, il ruolo del professionista antincendio, il progettista, è basato alla cronaca molto più di prima perché con il codice di prevenzione incendi abbiamo affidato a lui l'intera scelta della progettazione partendo dalla valutazione del rischio e sviluppando quella che è una progettazione con un approccio prestazionale che quindi è in qualche modo completamente gestito dal progettista e soltanto controllato e non assolutamente ingessato dalla normativa tecnica tradizionale. Quindi il progettista ha questo ruolo importante sia per cucire al meglio il progetto antincendio sull'attività che si trova a progettare e a pensare per una gestione futura e questa cosa deve farlo ovviamente a stretto contatto con il responsabile dell'attività o con il datore del lavoro perché è da lui che può carpire quelle che sono le informazioni più utili per progettare appunto al meglio una sicurezza antincendio tarata su quell'attività e non calata dall'alto magari con norme prescrittive che mal si congegnano a quell'attività in particolare. E poi chiediamo al professionista antincendio visto che sicuramente questo tipo di progettazione farà aumentare anche la sua sensibilità verso temi fondamentali della sicurezza anche quello di far proprio il raggiungimento non di un'attività normata ma di un'attività sicura. Quindi questo è un po' lo scopo e noi ci auguriamo come Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che non ha abbandonato il campo completamente al progettista ma ha abbandonato una flessibilità di progettazione che consente anche di non ingessare troppo e anche a volte le finalità stesse di un'attività. Quindi lasciamo più spazio a tutti con l'obiettivo però unico e finale quello della sicurezza antincendio. Chiarissimo. Guardando quindi in prospettiva secondo lei, quale è lo sviluppo della prevenzione incendi sia dal punto di vista normativo che applicativo? Allora ho citato prima il codice, il codice è stato un po' la pietra miliare, il momento di spartiacque tra la vecchia e la nuova prevenzione incendi quindi ovviamente adesso siamo incanalati a proseguire su questo percorso. Uno dei più importanti passi avanti che abbiamo fatto ultimamente è stata l'emanazione dei tre decreti primo settembre, due settembre e tre settembre che andranno una volta entrati in vigore alla fine appunto tra settembre e ottobre del 2022 andranno a sostituire completamente il vecchio decreto 10 marzo 1998 che esensi del decreto 81 del 2008 sulla sicurezza del lavoro in qualche modo dettava i criteri generali per la prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro. Questi tre decreti sono stati elaborati in continuità con l'approccio prestazionale sancito appunto nell'ambito della prevenzione incendi con l'emanazione del codice di prevenzione incendi hanno delle caratteristiche molto differenti nel senso che il decreto primo settembre 2021 ha introdotto la qualificazione dei tecnici manutentori che possono operare sugli impianti e i presidi antincendio. Questa è una cosa importante perché vuol dire veramente integrare il sistema dal progettista all'installatore al manutentore. Così come il decreto 2 settembre 2021 dà le indicazioni per una corretta gestione della sicurezza antincendio sia in esercizio che in emergenza e dà finalmente un quadro chiaro di quelli che devono essere contenuti della formazione sia per gli addetti antincendio ma anche per chi forma gli addetti antincendio e infine con l'ultimo decreto, il decreto del 3 settembre del 2021 che abbiamo ribattezzato un mini codice abbiamo cercato di portare la progettazione del codice ovviamente in maniera molto semplificata in tutti quei luoghi di lavoro che vengono classificati a basso rischio di incendio quindi per i quali non si applica il codice ma comunque conviene seguire una strada già tracciata che porta dei risultati per raggiungere sempre l'obiettivo della sicurezza.